io non devo mangiare lo sai hai iniziato i lavori proviene, lasci guarda solo e mi chiede ma la cosa corrimo adesso devi far uscire quello lì, stai stai a fare quello lì ma cosa mi è successo? è una marmita non c'è la parte lì, non fai solo oh, non c'è la parte lì, non c'è la parte lì oh, ora si che si ragiona vedi? vedi che questo viene via no, ormai lei non ascolta più nessuno ah, devi portare a casa il pezzo di questo quello, sembra giusto quello più difficile, no? se no che cazzo di questo c'è? è che da messi di acciaio stai passando se no erano di ferro, si spartavano no, prova a tirarla in giù che questo dopo lo sfidi è bravo, anche quello è vero quindi andava bene ma provo a farla al contrario dammi che picca un po' di qua si, perché le dita stai? si, le meglio che se vai giù ancora un po' magari dopo riesce adesso si dovrebbe sfilare sai cos'è il bello di queste cose? che coinvolgi gli altri si, no, io ho finito ma il coinvolgo io ho finito non è vero ma sai perché si è fatto coinvolgere? perché c'ha pane bravo ma sai che devi tirare il nodo lì devi portare a casa un pezzo di... ah no, io pensavo quello ti serviva ma no, il nodo è rimasto sotto ma no, porta a casa questo che fai il tagliere, no? ma che no no, tagli giù il salame qui il resto io voglio no, il nodo non ti aiuto più il nodo non ce la farai mai a meno che c'è qui la motosega a batteria eeeh, c'è dentro il seghetto ahahah e io allora punti a mezzotto non vado star κάpe domani ahuh ma che c'è dentro di chiodi ma che non ti portiamo più beh troppo Simone